Sviluppo e sostenibilità. Queste le parole alla base del nuovo piano cave della regione toscana presentato dall'assessore al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli a Carrara. Il piano cave individua gli ambiti in cui è riscontrabile la presenza di materiale coltivabile, definisce le regole per la tutela e l'approvvigionamento dei materiali di cava e traccia la cornice di regole in cui poi il comune rilascia le autorizzazioni alla coltivazione delle cave. Tutto questo, come sottolineato dall'assessore regionale Ceccarelli durante il suo intervento, è frutto di un percorso partecipativo. Per dare la possibilità di uno sviluppo sostenibile di questo settore garantendo occupazione ma nel rispetto delle sostenibilità. La sostenibilità ambientale innanzitutto, la sostenibilità economica perché ovviamente ci deve essere e perché molte aziende e molti posti di lavoro sono impegnati in questo settore. Sono 640 le aree di risorsa sulle quali è stata effettuata un'analisi della pianificazione regionale, provinciale e comunale dei vincoli. Sono stati poi individuati 300 siti di interesse storico sulla base delle ricerche delle Università di Siena, Pisa e Firenze. Tutta l'individuazione delle aree è stata effettuata tenendo conto delle rispette ambientali, paesaggistici, della tutela delle risorse ambientali, della necessità di proseguire un'attività che ha degli impatti, considerando e cercando di mitigare il più possibile per il superamento di questi impatti. Il nuovo piano è stato adottato dal Consiglio regionale e dopo la fase in cui è possibile presentare delle osservazioni potrà essere approvato in via definitiva. Grazie a tutti.